C'è un'importante novità per i pazienti italiani affetti dall'eucemia mieloide cronica. L'Agenzia Italiana del Farmaco, infatti, ha appena autorizzato la rimborsabilità di un nuovo farmaco, un inibitore delle tirosichinasi di terza generazione che si chiama Hashimib, per il trattamento di alcuni di questi pazienti. Noi ci facciamo raccontare in che cosa consiste esattamente questa novità e qual è la sua rilevanza da un esperto di questa patologia, il professor Paosto Castagnetti. Professore, ci spieghi innanzitutto per quali pazienti con leucemia mieloide cronica si potrà, d'ora in avanti, utilizzare questo nuovo farmaco, Hashimib, ora appunto rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale? Questo farmaco viene approvato per la terapia di terza linea dei pazienti affetti dall'eucemia mieloide cronica in fase cronica, quindi pazienti che hanno fallito per resistenza o intolleranza almeno due linee di terapia. Ma ci spiega che cos'è questo farmaco, come agisce e in che cosa si differenzia rispetto ad altri inibitori delle terrosinichinasi già disponibili? Allora, questo farmaco è un inibitore delle terrosinichinasi a sua volta, ha un meccanismo d'azione innovativo perché lega una regione diversa della proteina Bersaio e BCR-ABL, in particolare la lega in un sito di miristroilazione, che è un sito molto specifico di legame, è un legame differente rispetto a quello di tutti gli altri inibitori delle terrosinichinasi finora utilizzati, che invece legavano il sito catalitico della proteina BCR-ABL, quindi il sito di legame con l'ATP. Questo legame in una regione differente, quindi a distanza, blocca la proteina nella sua conformazione chiusa, quindi inattiva, e in ogni caso rende impossibile l'attivazione da parte della proteina di tutti i bersagli all'interno della cellula, quindi della trasformazione in senso leucemico della cellula stessa. Il via libera delle autorità regolatorie ad Hashimini per questi pazienti, quindi prima dell'FDA e dell'EMA e adesso anche dell'AIFA, è il risultato, diciamo, dell'esito positivo di uno studio importante di fase 3 che si chiama Hashemble. Ci racconta un po' più in dettaglio che cos'è questo studio e soprattutto che risultati ha dato, sia sul piano dell'efficacia, sia su quello della sicurezza e tollerabilità di questo nuovo farmaco. Allora, lo studio Hashemble è uno studio di fase 3, quindi uno studio randomizzato tra due bracci di trattamento. I pazienti sono stati randomizzati due a uno, due pazienti venivano randomizzati ad Hashimini, un paziente a Bosutinib. In totale sono stati arruolati oltre 200 pazienti, di cui oltre 150 trattati con Hashimini e oltre 70 trattati con Bosutinib. I pazienti che potevano essere arruolati erano pazienti che avevano fallito almeno due linee di terapia con inibitori delle tirosinchinasi, quindi era il setting della terza linea oltre. In questi pazienti, che sono pazienti, diciamo, non semplici da trattare perché pazienti che hanno già avuto dei fallimenti alle spalle, la Hashimini ha mostrato un vantaggio nei confronti del Bosutinib in termini di probabilità di raggiungere una risposta molecolare maggiore, che è quella che ad oggi viene considerata la risposta ottimale. I dati a 24 mesi, diciamo, nel primario era il tasso di risposta molecolare maggiore a 24 mesi, i dati a 24 mesi hanno mostrato un tasso quasi doppio di risposte molecolari maggiori raggiunte con Hashimini rispetto a Bosutinib. E questa differenza è stata confermata nell'analisi a lungo termine a 96 settimane, quindi a due anni. Quindi è un farmaco che è più efficace rispetto al Bosutinib in questo setting di pazienti. Il suo innovativo meccanismo d'azione, diciamo, ci faceva prevedere una buona tolerabilità di questo farmaco. In effetti questa buona tolerabilità è stata confermata perché in generale il numero, la gravità di eventi avversi osservati nei pazienti trattati con Hashimini è stata inferiore rispetto ai pazienti che invece sono stati trattati con Bosutinib. Diciamo che oltre il 25% dei pazienti ha dovuto interrompere la terapia con Bosutinib per tossicità, mentre invece solo il 7% dei pazienti ha dovuto interrompere la terapia con Hashimini per tossicità, quindi una differenza piuttosto spiccata. In particolare vorrei sottolineare i dati di natura cardiovascolare, diciamo, l'Hashimini come il Bosutinib si è rivelato un farmaco safe, quindi sicuro da un punto di vista cardiovascolare, perché il numero di eventi osservati è stato basso. Questo credo che sia un valore aggiunto perché le terapie con inibitori delle trisinchinasi sono terapie croniche, diciamo, l'incidenza di eventi avversi, magari anche rari, ma potenzialmente severi, ha un rilievo nelle nostre scelte, quindi avere dei farmaci che siano sicuri è certamente per noi un grande valore aggiunto. In realtà, diciamo, nelle ematologie italiane Hashimini è un farmaco già conosciuto, perché adesso, diciamo, d'ora in avanti sarà rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, però, diciamo, voi avete già potuto acquisire una certa esperienza perché è stato reso disponibile attraverso un programma di uso compassionevole. E quindi, diciamo, vorrei sapere da lei quali sono i risultati dell'esperienza italiana già maturata con Hashimini e soprattutto questi dati, diciamo, regolano il confronto con quelli dello studio registrativo, lo studio Assemble? L'ematologia italiana ha sempre un'esperienza con i nuovi farmaci perché, per fortuna, partecipa agli studi. Diciamo, abbiamo la presunzione di dire che siamo sempre impegnati direttamente anche nello sviluppo dei farmaci. Diciamo che è vero che attraverso un programma di uso compassionevole è stato possibile estendere l'uso a tanti centri in Italia, quindi è certamente un'esperienza diffusa, non è un'esperienza limitata solo ad alcuni centri di riferimento. Questi centri hanno potuto, diciamo, utilizzare la Hashimini secondo le indicazioni previste dallo studio che era in corso, quindi sempre nella terza linea di terapia. Questi dati sono stati raccolti e presentati a vari congressi. L'ultima presentazione più aggiornata è stata fatta all'ultimo congresso EHA, dove sono stati presentati i risultati di oltre 70 pazienti. Questi risultati sostanzialmente hanno confermato i dati dello studio registrativo, quindi ci dicono che Hashimini in terza linea è in grado di ottenere delle risposte in pazienti che hanno già fallito due o più inibitori. Un dato molto importante che ci ha fornito il studio italiano è la dimostrazione dell'efficacia anche in pazienti che avevano fallito Ponatinib. Credo che sia un elemento importante perché al momento il Ponatinib era considerato il farmaco da utilizzare quando la situazione era più rischiosa per il paziente. Invece abbiamo un farmaco nuovo che oltre ad essere ben tollerato è anche molto efficace, tanto da poter indurre le risposte in pazienti resistenti a quello che consideravamo finora il farmaco più potente a nostra disposizione. Quindi possiamo dire che i dati italiani non soltanto abbiano confermato gli studi ma abbiano anche aggiunto qualcosa in più. Dunque professore, ricapitolando in estrema sintesi, che cosa cambia con l'arrivo di Hashimini Ponatinib nell'algoritmo terapeutico dell'elecimina miloide cronica in Italia? Allora, noi abbiamo un farmaco che in terza linea si è dimostrato più efficace rispetto a inibitori di seconda generazione. Quindi ha il potenziale, diciamo, di passare avanti ad altre terapie perché ha mostrato un'efficacia che dobbiamo tenere in conto. Abbiamo anche un farmaco che ha mostrato un profilo di tossicità molto favorevole. Quindi cambia che abbiamo un'arma efficace e ben tollerata, quindi potenzialmente un farmaco che potrà essere prescritto o utilizzato in molte situazioni difficili in cui i pazienti hanno già fallito linee precedenti. Quindi io mi aspetto che ci sarà un, diciamo, un gran numero di pazienti che potrà essere avviato a questo trattamento. Grazie a tutti.